I temi che si possono trovare nel rapporto Formez 2022, digitalizzazione, utilizzare le più moderne tecnologie, quali ad esempio l'intelligenza artificiale, per aiutare le pubbliche amministrazioni a funzionare meglio, in particolare quelle di minori dimensioni, ad esempio i famosi più di 5.000 comuni che hanno meno di 5.000 persone residenti. Il tema delle aree interne, quindi come delle piccole realtà amministrative possono lavorare per offrire ai propri cittadini dei servizi moderni, veloci e di altissima qualità. E poi c'è il tema dei concorsi, all'interno del quale sono emerse alcune criticità e noi cerchiamo di ragionare su alcune possibili soluzioni. C'è il tema della concorrenza tra le pubbliche amministrazioni che va gestita anche attraverso una operazione di trasparenza e di racconto di quello che sono le possibilità di sviluppo professionale all'interno delle proprie organizzazioni. Quindi un candidato giustamente ha tutto il diritto di sapere quale sarà il proprio percorso professionale una volta iniziato il lavoro in una pubblica amministrazione. C'è il tema del divario nord-sud, noi storicamente siamo abituati a questo concetto di posto pubblico rappresentato soprattutto da persone che vengono dalle regioni del centro-sud. Per la prima volta noi abbiamo provato a misurarlo e quindi questa misura ci può aiutare anche a trovare delle soluzioni o anche semplicemente ad indirizzare una certa politica di selezione in modo da andare a trovare i candidati più adatti e che siano interessati a lavorare in ogni zona del nostro paese. L'ultimo aspetto ha a che fare con tutti quei bandi dove non troviamo abbastanza candidati per i posti disponibili. È un fenomeno che sta emergendo, sicuramente c'è la concorrenza del privato, ci sta, c'è un tema demografico perché il numero di persone potenzialmente interessate in Italia sta calando, però secondo noi c'è anche un tema di comunicazione. Non comuniciamo abbastanza bene prima del concorso di che cosa si tratta, siamo troppo abituati a fare riferimento solo su quello che c'è scritto nella gazzetta ufficiale mentre oggi la comunicazione è totalmente diversa e se vogliamo parlare soprattutto ai giovani dobbiamo utilizzare degli strumenti che i giovani possano utilizzare, quindi social o quant'altro. L'ultimo tema è quello relativo alle prove d'esame. Probabilmente alcune materie vanno un attimo ripensate in un'ottica di non te le chiedo prima della selezione ma magari ti formo nel momento in cui entri nella pubblica amministrazione.